Ciao, sono Luca Ruggeri, consulente fitness e personal trainer e oggi sono in compagnia di Cinzia. Ciao! Ho preparato per Cinzia un intenso allenamento usando il TRX, sicuramente molto intenso per il lato B. Cinzia, sei pronta? Sono pronta! Benissimo! Cinzia, esegui uno squat, ora pistol squat solo con una gamba, scendi, di nuovo squat, pistol squat solo con l'altra. Questo esercizio è molto utile perché allena intensamente la muscolatura di gambe e glutei e usando il Super Functional si è costretti ad attivare i muscoli del dorso e delle braccia per stabilizzarsi. Continua così, sta venendo molto bene, brava Cinzia! Abbiamo in totale 8 ripetizioni. Nel prossimo esercizio Cinzia passa sotto la barra del Super Functional con uno squat e poi ritorni. Esegui in totale 12 ripetizioni. Lascia che l'esercizio sia il più dinamico possibile. In questo modo solleciterai sia l'apparato cardiovascolare, il cuore, sia la muscolatura di gambe e soprattutto i obliqui. Molto bene! Devi passare sotto la barra e evitare di toccarla. Continua! Ottimo! Come sta andando? Bene! Brava! Continua così! Nel prossimo esercizio Cinzia sali in ponte, ora stendi e piega le gambe. Bene! Devi attivare la muscolatura posteriore delle cosce e stabilizzarti con gli addominali e muscoli della schiena. È possibile che in questo esercizio vengano crampi, questo perché si rigidisce troppo la muscolatura, quindi usa la giusta quantità di contrazione muscolare. Brava! Continua così! Senti le ultime tre, due, ultima, relax. Cinzia hai fatto un ottimo lavoro anche questa volta, sei stata molto brava! Grazie! Come ti senti? Bene, è stato intenso ma bene! Hai sentito efficacia negli esercizi? Sì! Allora possiamo ripeterli un'altra volta! Noi continuiamo ad allenarci! Ciao! 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 Grazie a tutti.